Cosa vuol dire 208 per noi? Sentire il cambiamento. Vedere la vita con slancio. Toccare il futuro, che è più vicino di quanto pensiamo. E più bello. Nuova Peugeot 208. Let your body drive. E se il futuro fosse il nuovo motore benzina 1200 VTI? Silenzioso, prestante, leggero. Per noi a 9.950 euro. Scopriamolo negli showroom Peugeot. Grazie.